Profilo destro Profilo sinistro Profilo centrale Azione Buonasera, mi chiamo Roberto Rossato e sono un attore. Mi sono diplomato alle Brutte Arti di Torino, come si vede, e so che l'associazione 4x4 cerca un attore comico. E io sono un attore intelligente e integerimo che sa piangere, essere triste, vomitare dolore e morire perfettamente belli. Azione, ci racconti la sua prima esperienza lavorativa? La esperienza lavorativa risale nel 1980, a Deilo sotto di me 47 uomini, lavoravano in cimitero. Come hai conosciuto tua moglie? Te la metti in un amico. E lo consideri ancora amico? Ho vissuto nella giubla con i cannibali. Eh, e cosa bolliva in pentola da quelle parti? Grazie. 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 Grazie.